sono urbano della sani moreno volkswagen audi di fucecchio oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate si tratta di questa bella audi a3 sport back dell'anno 2014 unico proprietario ed è un 2000 turbodiesel 184 cavalli quattro ruote motrici una macchina veramente veramente particolare intanto vi facciamo vedere da queste immagini lo stato l'uso della carrozzeria esterna che si presenta sempre in ottimo stato come potete ben vedere abbiamo tra l'altro i suoi cerchi lega originali la quattro ruote motrici come vi ho detto prima sensori di parcheggio posteriori internamente la tappezzeria è stata come il nostro solito lavata ed igienizzata a vapore precedente proprietario non fumatore quindi non troviamo strappi non troviamo misure non troviamo come detto buchi di sigarette è bella e profumata dopodiché abbiamo il suo cambio s-tronic il suo climatizzatore automatico navigatore solamente poi tra l'altro 139 mila chilometri quindi ancora una macchina tutta tutta da sfruttare volantino sportivo cruise control una macchina veramente completa e come dicevo prima particolare e allora è già disponibile per la vendita quindi potete già venire a vederla a provarla quindi telefonare e prendere un appuntamento andate poi tra l'altro sul nostro sito autosani.it troverete tutte le spiegazioni più dettagliate su questa vettura e tante nostre altre proposte per quanto riguarda usato e vetture aziendali su questa vettura per un eventuale acquisto possibilità di pagamenti rateali a tassi agevolati quindi vi possiamo fare un preventivo a 360 gradi è già disponibile quando venite a vedere questa macchina chiedeteci la prova su strada molto importante sulle macchine tra l'altro anche usate noi ve la faremo provare a questo punto vi ringrazio per l'attenzione vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Pucecchio e come diciamo sempre alla prossima vettura